Buongiorno a tutti, sono Carlo Alberto Cremonini, uno studente di dottorato al terzo anno in Fisica Teorica. Vi parlerò brevemente del mio tema di ricerca, ovvero supergeometria e applicazioni. Qua potete leggere alcuni membri del gruppo in cui collaboro, ovvero Sergio Cacciatori dell'Insubria, Roberto Catenacci dell'Università del Piemonte Orientale, Antonio Grassi e Simone Noi, anch'essi dell'Università del Piemonte Orientale, Silvia Penati da Milano Bicocca e Riccardo Re dall'Università dell'Insubria. Ok, molto brevemente vi voglio raccontare che cos'è la supergeometria. Allora, innanzitutto il punto di partenza è l'introduzione di quelli che si chiamano i numeri di Grassmann, ovvero divisori dello zero, ovvero numeri che soddisfano delle regole di anticommutazione, come potete vedere, in particolare numeri che il cui quadrato restituisce zero. Grazie a questa estensione di numeri si introduce il concetto di superspazio, ovvero l'espazio delle coordinate è descritto dalle coordinate normali, le coordinate bosoniche, se volete, x, e queste coordinate di Grassmann, per cui le funzioni nel superspazio si scrivono come delle espansioni in questo modo qua. Notate l'espansione nelle variabili di Grassmann non è troncata grazie al fatto che queste qua sono nilpotenti. Il superspazio, come magari alcuni di voi sanno, è uno strumento estremamente utile per descrivere in maniera covariante le teorie supersimmetriche, ovvero teorie che sono descritte da superalgebra, ovvero delle estensioni non banali, cioè non con simmetrie, non attraverso simmetrie interne, dell'algebra di Poincaré. Qua vi voglio citare ad esempio il teorema di Hag, Sonius, Lopuzansky. Perfetto, questa estensione si può portare anche al livello della geometria differenziale e in analogia a quello che si fa in geometria differenziale, dove si introducono le varietà, si introducono le supervarietà, ovvero degli spazi che sono descritti da una base che è usuale, ad esempio localmente RN, ma le cui funzioni possono contenere anche dei parametri di Grassman. L'applicazione in fisica teorica è vastissima, ad esempio teorie di supergravità, teorie delle superstringhe, teorie dei campi di superstringhe, operatori di Wilson, eccetera, ma questo terreno è veramente ricchissimo anche dal punto di vista puramente matematico, ad esempio per lo studio degli spazi dei moduli, delle supersuperfici di Riemann o la teoria dell'integrazione sulle supervarietà stesse. Bene, quindi questa è la fine della mia presentazione, grazie a tutti, se avete domande scrivetemi pure.